Per il nono anno consecutivo ci presentiamo al giudizio del sistema dei controlli dei conti pubblici e attraverso di esso al giudizio dei pugliesi, con le evidenze di una gestione virtuosa, traguardo raggiunto senza incrementare la pressione fiscale né contrarre nuovi debiti, riuscendo al contempo a ridurre il debito complessivo. Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo all'udienza per il giudizio di parificazione presso la Corte dei Conti. Una valutazione positiva anche di Moody's. L'agenzia di rating ha confermato il rating B3, con prospettive stabili, sottolineando la solidità finanziaria della regione, il basso indebitamento e la buona liquidità, seppur in un contesto socio-economico fragile. Giornata nera per il governo Emiliano, altro che sbandierato orgoglio per aver ottenuto la parifica della Corte dei Conti. Siamo ad ottobre e la maggioranza di centrosinistra non ha i numeri per portare in aula e farsi approvare il documento di economia e finanza regionale. E proprio i giudici della Corte dei Conti rilasciano una parifica, sostenendo che la Puglia ha una mobilità passiva in netto peggioramento, che si traduce in una mancanza di fiducia verso il sistema sanitario regionale, da parte dei pugliesi, che preferiscono andare a curarsi fuori regione. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, il capogruppo Renato Perrini, Luigi Caroli, Gian Nicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Tommaso Scatigna e Tonia Spina.